Ciao ragazzi, sono Federica e mi sono laureata in matematica all'Insubria nel dicembre del 2018. Durante il mio percorso di laurea magistrale ho avuto la possibilità di partecipare al programma di doppia laurea in collaborazione con l'Università Svedese, la Linneos University. È un'esperienza che consiglio caldamente perché, oltre all'esperienza di vita all'estero, che è fantastica, in questa esperienza ho avuto la possibilità di approcciarmi alla matematica in due diversi modi. L'Insubria, senza dubbio, è molto forte nella matematica teorica, ma in Svezia ho anche potuto vedere dove applicarla. E allo stesso modo lo sto riscontrando nel mondo del lavoro. Da due anni a questa parte, infatti, sono nel campo del business, dell'economia, di cui conoscevo ben poco di termini economici. Però il background che ci lascia l'Insubria e la matematica e la teoria della matematica, secondo me, di sicuro, ci facilita l'adattamento su ogni tipo di argomento.